E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete, devastate di mi piace, 5.000 ne esigo, guardatevi i video fatti, tutti quanti, specialmente quello di oggi in cui abbiamo parlato anche di calcio a mercato della viola e tutti gli altri, seguite le pagine amiche, dodicesimo viola, space viola, suffering, seguite tutto quanto, poi ovviamente continueremo a seguire il calcio a mercato e le parte della Fiorentina. Allora signori, Fiorentina Tuente 2-1, sensazioni contrastanti, ho visto la squadra al primo tempo, mi ha gasato molto bene, abbiamo devastato a sinistra un sottile da veramente spellarsi le mani dagli applausi, Io un'azione come quella del primo gol col tocco di tacco di sottile, cross del biro, colpo di testa di Nico Gonzalez non la vedevo da tanto tempo, il primo tempo abbiamo fatto tanto e meritavamo secondo me anche di più. Se il primo tempo si concludeva 3-0 non c'era niente da dire, se Amrabat, Duncan che sono andati al tiro qualche volta fossero stati un po' più precisi, un po' più cattivi e l'avessimo chiuso sul 3-0 il primo tempo, non c'era niente da dire. Sebbene anche nel primo tempo qualche segnale di braccino dopo il gol l'avevamo dato. Secondo tempo penso per la stanchezza, perché ho visto giocatori madidi, ho visto giocatori abbastanza tirati, abbiamo un po' sofferto il ritorno del Tuente che è stato eccessivo e noi siamo stati troppo bassi, troppo schiacciati e purtroppo alcuni cambi del mister sono arrivati un po' tardi, secondo me sono arrivati un po' tardivi. Anzi, quello di sottillo posso capire perché va razionato e perché anche Icone andava visto, perché l'avremmo preso per quel cosa il nostro ragazzo, però alcuni cambi magari se li facevi 4-5 minuti prima non era male e un po' più massiccia la policy dei cambi l'avrei fatta in certi ruoli, perché c'era gente un po' stanca e non tutti sono entrati bene. Abbiamo secondo me sofferto un calo mentale, ma stavolta l'ho visto più fisico, cioè ho visto la squadra soffrire probabilmente un po' questa che per noi è una novità, l'impegno ogni tre giorni. Ho visto giocatori poco lucidi, un po' annebbiati, ci siamo scesi, siamo un po' calati e abbiamo preso il gol ma soprattutto siamo stati poco lucidi a riproporci in avanti, non siamo stati capaci a dominare il gioco come abbiamo fatto il primo tempo, a schiacciare l'avversario. Per certi versi è salita un po' di stanchezza che poi è diventata paura e hai finito la partita con la sensazione di dire guarda meglio così mi tengo il 2-1 e ce la vediamo lì. Mi tengo le cose positive sicuramente, mi tengo il partitone di Sottil, mi tengo il grandissimo primo tempo, mi tengo il lavoro sulla fascia che abbiamo fatto il primo tempo, mi tengo le belle cose che ho visto il primo tempo, me le tengo. Vedo ancora una squadra però che fisicamente è un po' indietro, poi c'è sta cosa di Nastasic che a dire il vero aveva iniziato il primo tempo facendoci un po' cagare addosso su alcune situazioni, poi aveva recuperato nel gol che abbiamo preso un po' di responsabilità c'è secondo me. Poi bisogna vedere se il fuorigioco c'era o non c'era perché ci sono state delle proteste, però vabbè dai voglio pensare positivo, ho visto delle buone cose, se noi in questa adesso man mano che andiamo avanti comunque la squadra recupererà la condizione, la condizione salirà di tono perché abbiamo fatto la preparazione, il tuente è più avanti di noi. Voglio credere che settimana prossima andiamo in Olanda dove sarà dura per carità però il gol in trasferta fortunatamente non vale, voglio credere che andremo in Olanda volendo far la partita, cercando di farla con testa e cercando magari di essere un po' più fortunati di oggi perché ripeto, primo tempo siamo stati anche un po' sfortunati, se avessimo fatto il terzo gol non c'era niente da dire. Venendo un po' ai singoli, ripeto tra i positivi metto sicuramente migliore in campo Sottil, sì lì c'è un po' il rimpianto di dire l'avrei tenuto in campo, no lì ecco questo non glielo rimprovero italiano perché Sottil è anche giusto un po' centellinarlo, aveva giocato contro la Cremonese, abbiamo tante partite, lui sta diventando fondamentale, vado a promuovere sicuramente lui. Mi è piaciuto moltissimo il ruolo di Biraghi nei due gol che abbiamo fatto, specialmente il cross per Sottil sul secondo, poi nel secondo tempo insieme a Anastasic evidentemente lì non è funzionato qualcosa, bisognava correggere però soprattutto in fase come è stato detto di regia e di impostazione bene anche lui. Milenkovic ha fatto una partita d'ordine un po' come venuti che tutto sommato, ecco abbiamo attaccato poco da destra, questo devo dire, soprattutto dal basso, abbiamo fatto specialmente il primo tempo abbiamo fatto poca propulsione dal basso perché con venuti è così però quantomeno venuti difensivamente non ha fatto malissimo. Centrocampo un po' ritratto è sempre quello, il ritratto è Amrabat, cioè grande dinamismo, grande intensità, non ho visto una grandissima partita di Duncan, un po' diciamo spuntato, ho preferito Malè, quest'oggi Malè non mi è dispiaciuto, fai sempre fatica a capire che ruolo abbia, cosa debba fare, che tipo di situazione debba avere, però diciamo che ho apprezzato l'intensità di Malè, Malè è stato intenso, non mi è piaciuto molto Mandragora, non ha fatto granché quando è entrato, Amrabat ha fatto una partita, sono d'accordo, devastante, ottima in fase di recupero, di centralità, di dinamismo, però ecco in fase di regia, ripeto, si vede che ci serve qualcuno, ci serve qualcosa in più lì. Per quel che riguarda l'attacco, detto di Sottil, venendo agli altri, Nico González ha fatto, sì, ha fatto il gol, per il resto ha fatto diverse cose buone, un po' da due terzi diciamo, no? Ti fa due terzi di cose buone e il terzo finale sempre un po' sciabattato da correggio e così, però sicuramente positivo anche lui. Cabral, fino al gol stavo tirando giù tutto praticamente, perché non è che era entrato molto bene, lento, un po' impacciato, poi quel gol lì gli ha dato un po' fiducia e l'ho visto comunque sciogliersi, l'ho visto più centrale, l'ho visto più pericoloso, più attivo. Quindi diciamo che Cabral è andato a rimediare col gol, ma lì anche lui giustamente gli ha fatto segno, lì è un'azione ottima che parte dalla sinistra, poi arriva lui, ma lui comunque è stato bravo. Poi dopo il gol, not bad, Jovic è entrato un po' in una fase in cui la squadra era stanca e facevano fatica a servirlo, facevano fatica a raggiungerlo. Per quel che riguarda Icone e Kwame, Kwame meglio, Kwame l'ho visto più frizzante, non sempre preciso nei tocchi di palla, però anche lui ha sofferto del fatto che non aveva le occasioni magari che avrebbe avuto ad inizio partita, distante la stanchezza della squadra, Icone è male. Icone purtroppo l'ho visto molto bloccato, molto frenato, molto esterno, sempre le solite sensazioni, cioè io avrei fatto il contrario, vi dico la verità, avrei iniziato la partita con Icone e poi avrei messo Sottil, come vi dicevo oggi, a spaccare la partita. Però è anche vero che con questo Sottil qua ci sta che Italiano faccia giocare lui e non Icone, no? Icone non l'ho visto bene, onestamente, non l'ho visto bene. Terracciano ha fatto il suo, niente di eccezionale. Il rammarico è per tre cose, vi ripeto, il calo di condizione della squadra, mentale dopo i gol, che sembra sempre che va in pennica post-prandiale, e di condizione nel secondo tempo, ma lì ci puoi fare poco, ci puoi fare poco perché c'entra quando iniziano le stagioni delle squadre, gli impegni ravvicinati, è rammarico perché potevamo fare più gol, questo gol qui brucia, perché non meritavamo, secondo me, di avere specialmente per il primo tempo fatto. Poi il secondo c'è da dire che loro hanno agito bene, loro hanno fatto bene, hanno fatto una partita comunque senza strafare, per carità, ma pungendo, hanno fatto una partita pungente, che è andata a coglierti nei tuoi punti deboli. Va bene, ma comunque voglio essere positivo perché tutto sommato, se noi abbiamo la capacità di estendere l'intensità che abbiamo visto il primo tempo, anche a casa loro, contando magari di recuperare qualche giocatore, perché oggi avevamo anche una formazione che non è che giocassero tutti i titolari o i migliori che abbiamo, sperando di andare lì magari con un bel ton in barack, ok? Ma non solo, anche quelli che erano assenti oggi, vai lì magari con un po' più di titolari, con una condizione un po' al meglio, ok? Magari verso l'Empoli fai anche scelte di sto tipo, perché a sto punto è meglio andare lì e cercare di andarci convinti e compatti. Vai lì, secondo me, se sei capace di estendere quanto più possibile la prestazione del primo tempo, anche al secondo, con un po' di energia in più, con un po' di birra in più, con un po' di concentrazione, secondo me ce la si può fare. Non sarà facile, per carità, però penso che ne abbiamo, penso che ci abbiamo i mezzi, insomma, penso che ci abbiamo i mezzi. Va bene, ditemi cosa ne pensate voi, lasciatemi i vostri commenti, devastate di like, un caro saluto e a domani! Grazie!